Stesa a forcella spunta la nuova guerra tra giovani e vecchi camorristi di Napoli. È la nuova paranza dei bambini, un cartello di under 20 che si schiera contro i mazzarella e grida il rione nostro. Intanto, due notti fa, c'è stato in via Vicaria Vecchia un ride contro un bosso, forse una stesa, in cui una donna di 51 anni è rimasta ferita per sbaglio, per quella sua unica colpa, di essere al balcone al momento sbagliato. Succede nella strada simbolo del dolore per la morte di Annalisa Durante, 14 anni, vittima innocente della camorra, uccisa perché finì al centro di un agguato perché il reale obiettivo dei sicari si fece scudo del suo corpo. Il questore Antonio De Jesu parla di una strategia scellerata di giovanissimi espietati, un'apparanza di bambini con meno di 20 anni che avrebbero sparato contro mura e balconi per imporre il loro dominio, per fare paura. Il passaggio in zona di un affiliato del clan Mazzarella avrebbe scatenato la furia. Qualcuno sarebbe lavorando per affilare le armi di una nuova leva fatta di ragazzini tra i 15 e i 20 anni nel solco dell'epopea di Emanuele Sibillo, il fondatore dell'apparanza, ucciso in via Costa per mano dei Buonerba. Intanto la donna ferita, Anna Celentano, racconta la sua disperazione e spiega di aver temuto di morire. Adesso ho paura di tornare a casa, racconta. Per ora non torno a Forcella, mi sento una miracolata. Lo dice all'uscita dell'ospedale Loreto Mare. Lei che vive in quella strada che divide Forcella, racconta la sua disperazione nell'aver paura di tornare a casa sua.